Adesso invece andiamo a parlare del progetto BIV Internet Sicuro, la sicurezza nell'informatica, un progetto rivolto alle imprese, è promosso da Google, Polizia Postale, Altro Consumo e si è tenuto questa mattina nella facoltà di giurisprudenza. Il nostro Daniele Romagna ha incontrato Massimo Montanile del gruppo Finmeccanica e Stefano D'Aimpoli che è presidente di Icom. C'è un mix di interventi da parte delle autorità, di un'opera importante di prevenzione, investimento in sicurezza da parte delle aziende e anche regole elementari di comportamento da parte dell'individuo. Però occorre anche a mio avviso dire che i dati rappresentano una straordinaria opportunità, noi vediamo spesso solo il lato negativo, ovviamente c'è anche il lato negativo, però c'è anche un elemento estremamente positivo di cui bisogna tener conto, sia non solo per le imprese che poi sfruttano questi dati, ma anche per i consumatori che nella propria vita quotidiana o nei propri contatti con le imprese possono essere i beneficiari finali dell'economia che è sempre più basata sui dati. Ci sarà una massa enorme di dati in movimento che ci riguardano, quindi il tema della sicurezza è strettamente connesso al tema dell'evoluzione tecnologica, per questo dico bisogna spostarsi sui principi, quindi se si riesce a realizzare degli strumenti che siano preordinati al rispetto della privacy, e al rispetto della sicurezza, ecco che avremmo praticamente un mondo dove è più agile muoversi e i rischi sono ridotti effettivamente.